Le notizie che arrivano in merito all'attacco russo ci preoccupano sotto molti aspetti, in primis quello umano. Così il presidente di Confartigianato Vicenza Gianluca Cavion si è esposto in merito a quanto sta accadendo. Una guerra disastrosa che porta con sé gravi conseguenze anche dal punto di vista economico. Una situazione critica che tocca da vicino gli artigiani vicentini. Sentiamo il commento del presidente dell'associazione. Questo attacco della Russia ai paesi dell'Ucraina ci lascia veramente con la mano in bocca. Non avremmo mai pensato che nel 2020 ci fossero ancora queste guerre. Sotto l'aspetto umano fa veramente pena vedere queste situazioni, questo popolo bombardato, queste famiglie che stanno scappando dai loro territori, dai loro paesi, dalle loro case. E questo è un aspetto umanitario che fa veramente rabbrividere. Avevamo fiducia che la diplomazia facesse un corso diverso. Invece questo attacco repentino e crudele da parte della Russia ha messo in ginocchio questo paese. Dal punto di vista di noi artigiani il primo problema riguarda i costi dell'energia. Costi che sono schizzati verso l'alto, le borse sono impazzite e questo crea un grandissimo disagio a tutte le nostre aziende. Sono costi insopportabili che rischiano di mettere a repentaglio la produzione delle nostre aziende. Il secondo aspetto riguarda l'export. Abbiamo tantissime aziende che lavorano con la Russia. Aziende che hanno acquistato materiali, hanno fatto dei prodotti e che sicuramente troveranno difficoltà nel consegnare queste merci. Si troveranno qui in magazzini pieni avendo prodotto e consumato energia. E questo è un danno economico incalcolabile per le nostre aziende. Facciamo ora un focus sulla situazione export verso la Russia. I dati ci dicono che Vicenza è la seconda provincia italiana in termini di esportazioni verso questo paese e l'attuale situazione internazionale potrebbe avere delle ripercussioni sul tessuto economico vicentino, soprattutto in termini di export. A parlarcene nel dettaglio, Carlotta Andracco dell'ufficio studi di Confartigenato Vicenza. Sentiamo. Vicenza è la seconda provincia italiana più esposta sul mercato russo, con un valore delle esportazioni manifatturiere che negli ultimi 12 mesi ammontano 427 milioni di euro. Tra i prodotti vicentini maggiormente apprezzati sul mercato russo troviamo macchinari e apparecchiature che rappresentano da soli oltre un quarto delle esportazioni vicentine, prodotti in metallo, articoli di abbigliamento, articoli in gomma e materie plastiche e apparecchiature elettriche. Questi cinque settori da soli rappresentano oltre i due terzi di tutte le esportazioni vicentine sul mercato russo. Arriviamo da due anni positivi. Nel 2020, infatti, nonostante la pandemia, le esportazioni vicentine sul mercato russo sono cresciute del 6,1%. I primi dati del 2021, relativi ai primi nove mesi dell'anno, mostrano un'ulteriore crescita del 18,1% delle esportazioni vicentine in Russia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il rischio ora è che si verifichi una contrazione delle esportazioni, come già successe nel 2014 dopo le sanzioni economiche in seguito all'annessione della Crimea. E se è vero che esportiamo tanto verso la Russia, è altrettanto vero che è molto anche quello che importiamo ed è particolarmente delicata la questione gas. Preoccupano quindi quelli che potrebbero essere gli ulteriori aumenti dei prezzi dell'energia. A fare punto su questi temi per noi, il responsabile area energia di Confartigianato Vicenza e coordinatore del consorzio CAIM, Loris Rui. È dal mese di settembre 2021 che stiamo riscontrando continui aumenti dei costi di energia elettrica e gas, questo sia per le famiglie che per le imprese. Evidentemente è una situazione che già stava creando grossi problemi, soprattutto nell'attività di produzione di servizi delle imprese. Oggi, con questa nuova situazione che viviamo in Ucraina, ci stiamo domandando che impatto avremo anche sui costi energetici. Le cose le capiremo assolutamente nel mese di aprile, ovvero quando usciranno le bollette del mese di marzo. In questo momento l'impatto sui costi energetici rimane quello che stavamo già vedendo in corso nei mesi precedenti. Cosa stiamo facendo come consorzio CAIM e come Confartigianato? Siamo in continuo contatto con i nostri fornitori di energia elettrica e gas per cercare di mantenere un livello quantomeno accettabile degli aumenti in una situazione ovviamente fuori controllo. I nostri fornitori che peraltro hanno una produzione altissima di energia elettrica derivante da fonte rinnovabile, in particolare idroelettrica, che ci dà anche la garanzia di continuità delle forniture non dipendenti dagli altri, proprio perché è prodotta da loro. Dall'altro punto di vista stiamo ovviamente continuando le nostre pressioni rispetto al legislatore, di cui abbiamo avuto anche una piccola ulteriore soddisfazione di aver confermato l'annullamento degli onni di sistema fino al mese di giugno. Purtroppo però dobbiamo prendere anche atto di una situazione, non possiamo dipendere anche come imprese sempre dal sistema della rete elettrica nazionale così com'è e quindi dobbiamo aprire nuovi filoni per affrontare i temi energetici, nuovi filoni che in futuro inevitabilmente dovranno toccare il tema dell'autoproduzione, il tema dell'installazione di impianti fotovoltaici, della cogenerazione, di quant'altro utile a produrre energia elettrica o gas in alcuni casi per far funzionare le nostre imprese. Questo aiuterebbe sia il nostro paese e ovviamente ridurrebbe i costi delle imprese artigiane. Per altri contenuti video cliccate sui riquadri qui a fianco e per rimanere sempre aggiornati cliccate il pulsante sul tasto iscriviti. Grazie per la visione.